In casa progetta è stato raggiunto un altro traguardo, che è quello di aver posizionato in produzione, macchine realmente multiformato, macchine per grandi lastre, dove l'impegno tecnologico è altissimo, non solo nel senso macchina, ma proprio software elettronica in quanto immagini sempre più grandi, grafiche sempre più importanti, nell'ordine di diversi gigabyte, quindi immagini da centinaia di metri quadrati. Abbiamo presentato in questa fiera anche la macchina che decora i piatti, quindi un ulteriore traguardo, sembra essere la prima macchina digitale al mondo che decora i piatti, da un formato piccolissimo da 100 mm fino a un formato più grande piatto di portata a 400 mm. Difficilissimo è stato il rip di stampa, perché decorare linearmente presentava dei problemi superati, decorare in modo angolare, ne ha presentati tanti altri nuovi, d'altronde a casa nostra. L'abbiamo risolto bene, quindi la macchina è stata resa produttiva e le prime andranno in produzione entro il prossimo mese. Si può parlare, ma si può parlare già da tantissimo tempo, in quanto il full digital, quindi smalto, inchiostri, materie, protezioni, hanno raggiunto un ottimo livello qualitativo. C'è bisogno di una grandissima collaborazione con i nostri partner produttori di inchiostri. Io credo che l'anno 2017 vedrà partire diverse unità produttive in full digital, magari si partirà a step, a gradini, ma la vedo fattibile, vedo l'unica confluenza alla stampa digitale in ceramica, dove le mie moderne di saltatura diventeranno veramente corte e non supereranno i 20 metri. Un anno fa è stata presentata a giugno del 2015, ha superato tutti i test in produzione e i volumi di vendita la vedono per progetto la macchina più importante in questo momento prodotta. La produttività sicuramente va mantenuta, la cosa più importante che ci viene chiesta è l'affidabilità, le macchine come voi sapete lavorano H24 in condizioni non bellissime, di solito c'è polvere, c'è umidità, c'è fumo, c'è calore. Sono tutte condizioni ostiche alla stampa digitale, superati questi problemi ormai da tanto tempo, quindi si chiede affidabilità, si chiede un nuovo step in termini di risoluzione di stampa. Oramai stiamo abbandonando i 360-400 dpi di risoluzione per approcciare lo step successivo, e il 720 dpi, quindi pur mantenendo affidabilità, produttività, il nuovo target è quello di aumentare la risoluzione di stampa. Sostanzialmente il 60-70% di esigenze e di richieste sono analoghe in tutto il mondo. Esistono le personalizzazioni, esistono i mercati, ci stiamo spingendo anche nell'adozione di sali solubili, quindi di complessi metallici piuttosto che di inchiostri pigmentati. Ci sono delle aree al mondo dove vengono richieste magari produttività diverse, di scapito delle qualità, in altri invece il contrario.